Trentacinquesima domanda del Catechismo di San Pio X, è utile fare il segno di croce? È utilissimo fare il segno della croce, spesso e devotamente, perché è atto esterno di fede che ravviva in noi questa virtù, vince il rispetto umano e le tentazioni e ci ottiene grazie da Dio. È una cosa fantastica, non so se avete ascoltato quello che ho appena letto. È utilissimo fare il segno della croce, spesso e devotamente, con amore, perché è un atto esterno di fede che quindi testimonia la nostra fede, per gli altri ma anche per noi. Ravviva in noi quindi questa virtù, perché la fede è una virtù e come ogni virtù va alimentata, va praticata, altrimenti muore, vince il rispetto umano perché spesso noi abbiamo vergogna di manifestare la nostra fede. Ad esempio al ristorante non c'è nessuno che preghi prima di mangiare, io invece con la mia famiglia cosa facciamo? Ci mettiamo in piedi, facciamo il segno di croce per bene, facciamo una preghiera, diciamo ameni insieme e torniamo a farci il segno di croce. Stiamo manifestando la nostra fede e la testimoniamo anche davanti agli altri. delle persone sono, alcuni magari ci prendono in giro, altri rimangono colpiti, favorevolmente colpiti da questa testimonianza esterna di fede. Vince il rispetto umano che noi abbiamo, quindi è un atto di virtù. Vincere la ritrosia che abbiamo, la vergogna che abbiamo di manifestare la nostra fede, è un atto di amore al Signore perché per amore tuo Gesù io vinco questa mia debolezza di vergognarmi e ci ottiene grazie da Dio. Dio ci dà delle grazie immense, non vede l'ora di colmarci di grazie, basta che noi gli esprimiamo la nostra fede che è il nostro amore ed è la nostra gratitudine. È utile fare il segno della croce? È utilissimo fare il segno della croce spesso e devotamente perché è atto esterno di fede che ravviva in noi questa virtù, vince il rispetto umano e le tentazioni e ci ottiene grazie da Dio. Grazie a tutti.